Gattuso Gattuso che allena una squadra cretese Nel senso di creta Esatto, nel senso di creta Greca, esattamente come i malesani Che era in Grecia Va a rifoltire la rosa degli allenatori Che in conferenza stampa si sfogano Contro la stampa Quindi Ranieri sarà contento Perché gli fanno un po' di pubblicità Esatto, quindi noi ci andiamo a vedere Questa clip E almeno ci facciamo due risate Grande Rino Io sono la 24 ore al giorno 24 ore al giorno sono la io Tutti i giorni Ho spiegato Mehmet Ho spiegato Balder Ho spiegato Trapattoni E un'altra cosa Ho spiegato due giocatori Perché non rispettano le regole Fra Gulacchi e Scalacchi Ho spiegato E non mi sape No Ma questo è il mio lavoro Ecco, se hai capito Traducito te Traducite Avanti Mi non finisco la scuola Io non ho papà per il professore Ho spiegato Non ho mai visto una roba del genere Musso rispettare le altre collega Abbiamo molto nette collega E a volte può essere buono A volte può essere s***** Non sarà sempre l'allenatore qua Che deve pagare Sì, mi parlo per questo tono Come si dice? Mi scordi per il tono di zfonismo? Ma stop Stop Non parlo per il fútbol Non parlo per il fútbol